Sono con Giampiero e Sabrina, buongiorno, complimenti per la casa, bellissima piscina, bellissimo giardino. Voi avete installato Free Dance, posso chiedervi quali sono i vantaggi che avete avuto nell'installarlo? Ma ovviamente quelli di potersi stare fuori in giardino, viverlo in estate con gli amici, le cene senza avanzare. Ma c'è un elemento in più, io sono appassionato di giardinaggio e finché non ho provato Free Dance era comunque una tortura, soprattutto innaffiare le siepi all'imbrumire quando le zanzare si scatenano, uno andava proprio a stimolarle. Con Free Dance innaffio le mie siepi, mi metto a tagliare, a potare anche nelle ore tipicamente in cui le zanzare sono più attive e non mi accorgo più che esistano. Quindi una meraviglia. Una meraviglia, sì. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.